Diversi giorni al buio, senza energia, senza luce, senza riscaldamenti. Il maltempo che ha colpito il territorio ibleo nelle scorse settimane non è stato minimamente paragonabile a quello che ha messo in ginocchio diverse parti d'Italia. In Abruzzo in particolare, l'emergenza causata dalle condizioni climatiche ha messo a dura prova interi paesi. Neve, pioggia, fango hanno fatto vivere nel terrore intere comunità per giorni. Abbiamo sentito parlare abbastanza dell'emergenza che diverse città hanno dovuto fronteggiare, ma ascoltare il racconto di chi ha provato ad aiutare concretamente questi territori riempie d'orgoglio l'intera area eblea. Sono diversi, infatti, gli operatori di e-distribuzione di Ragusa che hanno prestato e che prestano tuttora il loro servizio in Abruzzo. Oltre a una settimana di interventi in provincia di Teramo, notte e giorno, hanno permesso alla gente del posto di riprendere la quotidianità, visto che l'energia elettrica mancava ormai da giorni. I volontari hanno operato in contesti molto difficili, in mezzo alla neve, al buio, con temperatura rigide. Un intervento importante è quello svolto dalla squadra ragusana che ha permesso a diverse famiglie di riavere l'elettricità. Tanti ringraziamenti che gli operatori hanno ricevuto, a cominciare da Ignazio Mallia, Salvatore Retrime, Luciano Gianni e Angelo Fracansino. Un abbraccio da tutta Santomero, con in testa il sindaco, riconoscente per il loro lavoro.